In questo posto succede una cosa strana. Perché Curon? Non avevi mica detto che non ci volevi più tornare? Ciao papà. Oggi comincia una vita nuova. Esattamente come lo ricordavo. Scusa se ci siamo presentati così. Qui non ci potete stare. Lo vedi il campanile? Si dice che in certe sere si sentono le campane suonare. Ci sono tipo delle leggende su quel posto. Pare siano successe cose terribili. Parizioni. Morti violente. Visioni. Ombre. Sei tu? Faccio sempre lo stesso incubo. Ci ho provato a dimenticare, come dicevi tu, ma non ci sono riuscita. Anna è scomparsa. Sono andati in montagna a cercarla. Anna! Mamma! Il lago si è risvegliato. La maledizione distrugga tutto. Dentro di noi vivono due lupi. Uno è il lupo calmo, gentile. Nell'altro è il lupo oscuro, rabbioso, spietato. Ottano per il controllo della nostra anima. No! No! Aaaaaaah!